Dalla faraona allo zafferano, alle lenticchie e per brindare il moscatello. Sono alcuni degli ingredienti made in Abruzzo consigliati per il cenone della notte di San Silvestro dallo chef Maurizio della Valle, titolare dell'Osteria La Corte di Spoltore, una struttura inserita da Slow Food tra le migliori osterie d'Italia che propone una cucina del territorio fatta di ingredienti acquistati da piccoli produttori locali. Se è vero che soltanto dagli anni 60 del secolo scorso in Abruzzo è iniziata la tradizione del cenone di Capodanno e che rispetto al pranzo di Natale a base dell'ormai tradizionale cardone e tacchino, per la notte di San Silvestro non si può parlare di un menù prettamente abruzzese, ci pensano gli chef a colmare questa lacuna prediligendo i prodotti della terra forte e gentile. Partirei col pesce, quindi andrei su un'insalatina di crudi, di scampi con i nostri calamaretti alla pescarese. Passerei per un baccalà con ventricina, friggitelli e porri. Andrei a toccare gli elementi preziosi che il nostro Abruzzo ci offre, quindi lo zafferano, il pecorino e la liquirizia. Prepareremo un piatto con dei ravioli di ricotta ovina, con una crema di pecorino, pistilli di zafferano di navelli e mettiamo polvere di liquirizia in maniera moderata sul piatto che offrirà un gusto particolarissimo ma buonissimo e è un inno all'Abruzzo. Le lenticchie non devono mancare, le lenticchie le potremmo unire con una faraona farcita, con le castagne. Immancabile il dolce, quindi andrei sul classico della tradizione abruzzese, la pizza dolce. Lo potremmo fare con uno sformatino oppure con un piccolo tortino farcito di crema con la bagna all'archemps e una bagna al caffè, con un cioccolato licoroso all'aurum, così diamo risalto anche ai nostri liquori del nostro territorio. Moscatello che della tradizione abbina il suo gusto con la dolcezza della crema. Cosa vuole augurare e chi ci sta seguendo? Il nostro territorio deve primeggiare, abbiamo tutte le caratteristiche per poterlo fare, abbiamo Madre Natura che ci offre dei prodotti unici quindi iniziamo ad essere propositivi e brindiamo all'Abruzzo che riesca nel 2019 a diventare una regione dove il gusto avvicina tutte le persone che amano il buon mangiare e il buon bere.